Anche a San Cataldo fervono i preparativi per i riti della settimana santa. Si comincia nella chiesa dell'oratorio domenica 10 e lunedì 11 aprile, quando alle ore 19 andrà in scena 30 anni avviva, la passione di Cristo nella pietra del San Cataldese con la regia di Angelo Iacono, protagonisti il laboratorio tetrale e quello dei bambini dell'oratorio salesiano di San Cataldo, con la partecipazione della corale Resonanzia e Camera Chorus, diretta dal maestro Daniele Riggi. Il comune di San Cataldo è intanto predisposto a un programma ricco di eventi. L'associazione culturale Santissima Passione di Cristo si occuperà dei piccoli misteri martedì 12 aprile, con inizio alle ore 20 da piazza Monsignor Cataldonaro al santuario Santissima Maria delle Grazie. Il mercoledì 13 aprile invece ci saranno due rappresentazioni, una in piazza Calvario curata dalla compagnia teatrale Attori per Caso Junior con l'Urti Miuri di Cristo di Bernardino Giuliana, a partire dalle 20 e 30 con la regia di Davide Burcheri. Alle 21 invece un corteo storico con costumi romani e armi d'epoca partirà dalla piazza San Giuseppe con la presa della croce per poi arrivare in piazza Monsignor Cataldonaro, dove avrà inizio la lauda sacra. L'associazione Quarta Parete infatti curerà il pianto della Madonna di Jacopone da Todi, con la regia di Vincenzo Giambra. Giovedì 14 aprile si svolgerà la processione della Dolorata e San Giovanni, a partire dalle ore 21 dalla chiesa di San Giuseppe. Durante la giornata di venerdì 15 aprile ci saranno diversi momenti, a partire dalle 7 del mattino con il Cristo morto. Alle 11 e 30 la processione solenne del Nazareno e tradizionale incontro di Meziurno. Alle 13 intronazione del Cristo in croce in piazza Calvario e alle 20 e 30 la scinnenza a cura della compagna tetrale Medea. Alle 21 la solenne processione del Cristo morto con la Dolorata e San Giovanni, sempre da piazza Calvario per poi concludersi in chiesa madre. Domenica 17 aprile ci sarà prima il tradizionale incontro, alle 18 e poi alle 18 e 30 la solenne processione di Gesù Risorto con la Madonna, la Maddalena e San Paoluna. Infine nel programma si fa riferimento anche al concerto La Gloria di Colui che tutto muove e alle due mostre, una di Diorami Pasquali e Costumi Romani presso la Biblioteca Comunale dal titolo Un viaggio attraverso la passione curata da Fabio Di Liberto e quella diffusa, la tradizione di Prende il Corso la Settimana Santa San Cataldese in Mostra che si svolgerà in corso Vittorio Emanuele a cura dell'Associazione Culturale Amico Medico e dell'Associazione Santissima Passione di Cristo.